e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè amici ci siamo ci risiamo con cosa con questi giga illimitati tanto tempo fa in una galassia lontana lontana ci fu qualche qualche altro gestore virtuale dove scappavano fuori con questi giga limitati poi ci sono sono successi un po di casotti che non erano illimitati insomma bene o male quasi ci risiamo quasi circa pressa poco perché perché non si capisce una mazza allora volevo aspettare fare questo video perché c'è un conto alla rovescia di questa offerta e non so se verrà posticipata ma per chi mi conosce insomma io faccio fatica ad aspettare le cose e devo far subito non posso aspettare di chi parliamo parliamo di veri mobile allora intanto andiamo a vedere un po il sito cosa cosa offre qui ne stanno ne stanno sparando sempre di più di giga ragazzi è incredibile invece di pensare un eventuale 5 giui come magari sta facendo che na oltre a migliorare la propria struttura quindi aumentare un po questa questa tecnologia rivolta più che prima di tutto al volte perché ho letto molti commenti ci sono molte lamentere dai clienti che na che non tutti i dispositivi funzionano col volte ci sono qualche problematica e sembrerebbe che che na implementi questa nuova tecnologia doveva a migliorare il volte quindi sarà disponibile per tutti i dispositivi e addirittura scapperà fuori anche con il 5 giui queste sono le voci che ci sono su blog e forum poi staremo a vedere quando quando scapperà e naturalmente vedremo un po le loro offerte ma per non farsi sfuggire tutte queste cose che cosa dovete fare naturalmente dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina bene torniamo a veri mobile a questa offerta che tra dieci ore scade poi vedrò vedremo se posticiperanno perché bene o male anche queste qui di questi 5 euro 99 questa qui vedete 5 99 150 giga attivano online in tre minuti e hanno anche con lo si può si può utilizzare anche lo speed insomma naturalmente questo addirittura un mese di ricarica omaggio naturalmente solo in portabilità poi vedete più in basso che ci sono tutte le offerte quindi dai 150 giga portabilità 200 giga portabilità nuovi numeri 250 giga portabilità nuovi numeri o dai cattivoni quelli che provengono da team vodafone che na e altri e 320 giga insomma sempre tutti nello stesso metodo ma qua sotto come vedete ci sono anche altre offerte quindi le novità minuti sms limitati con 10 gira 4 99 ecco questo potrebbe essere interessante per qualcuno da non spendere molto sapete che bene o male di 4 99 sia o mobile iliad offrono 4 99 solo voce sms non danno la navigazione qui invece potrebbe essere anche interessante 10 giga o meglio che niente poi come avete visto ci sono delle nuove promo con 100 per cento internet 400 giga 11 99 solo per nuovi numeri e dice per rete 4g full speed quindi dove non dovrebbero avere strozzature e c'è anche una 600 giga addirittura 13 e 99 queste sim qui sono solo dati quelle invece che vi parlo che sono giga illimitati la troviamo sotto la e sim e non sotto la sim quella quella fisica per per capirci perché perché in questo modo utilizzando le sim almeno che io sappia dei router con le modem che abbiano le sim non le ho ancora viste se ne conoscevi qualcuno lasciate sotto nei commenti si fa fatica a trovare quelli col 5 giui però non ci sono ecco perché perché queste offerte sono dedicate per gli smartphone sapete che non si possono utilizzare anche se qualcuno di voi lo farà ugualmente però potrebbe essere anche bloccato e dopo non ci deve lamentare sono offerte dedicate agli smartphone quindi non da utilizzare nei modem quelli per i modem sono quelli di 400 600 giga con quelle tariffe qui invece abbiamo quelle con la e sim con giga illimitati questa qui è l'offerta vedete veri unlimited 10 ore 10 99 ci sono giga minuti sms limitate naturalmente esclusivamente importabilità scopri e non c'è né il costo della e sim e neanche il costo dell'attivazione quindi sono proprio 10 euro e 90 puliti puliti la scadenza sarebbe oggi vedete al 25 sono sono quasi le 14 quindi mancano 10 10 ore fino a mezzanotte di oggi però perché ho voluto fare questo video perché ci risiamo come detto all'inizio ci risiamo sempre queste non so da fastidio però glielo permettono di fare mettere oltre a questi minuti sms illimitati che sappiamo che non sono illimitati mettono anche questi giga illimitati ecco faccio questo video per farvi capire che non sono illimitati c'è sempre quel discorso ma con tutti i gestori fisici e virtuali che non sono illimitati perché andate a guardare sotto le condizioni contrattuali generali bla 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 e c'è scritto in questa qui di veri mobile che i dati non possono superare le cinque volte il consumo medio dei clienti questo l'abbiamo già spiegato vuol dire che a parte che non sappiamo neanche allora che mettessero almeno ecco già in prima pagina dove mettete giga illimitati e poi mettete la media attuale non so trimestrale annuale o quel cavolo mensile quello che volete la media è questa così almeno uno si può regolare mi metti giga illimitati poi metti ok questi sono però le condizioni e uno si può regolare come abbiamo detto giriamo sui 25 30 gigabyte come media dei clienti ad esempio abbasso la media perché arrivo siano a 10 c'è magari quello che ne consuma 50 sicuro che consuma 100 però questo dipende dai clienti di veri mobile quindi in base a poi non so come viene calcolato se mensilmente trimestralmente semestralmente annualmente non so e bisognerebbe che venisse anche spiegato questa cosa qui ecco si deve fare riferimento a questa a questa condizione che i giga in quel mese che varieranno ok varieranno non può superare le cinque volte quindi dobbiamo moltiplicare 5 per la media che fanno i clienti di veri mobile che noi non sappiamo mettetelo bello in evidenza la scritta è perché allora la trasparenza questa cosa qui sarebbe tanto tanto gradita bene stop basta finisco qui finisco qui questo video era solo per far informare a tutte quelle persone che magari non seguono molto tariffe telefoniche gestori telefonici insomma questo sapete veri mobile copertura abbiamo detto win3 ha una strassatura di 30 megabit al secondo in darroni in upload quindi cose che dovete sapere io vi saluto vi ringrazio noi ci vediamo prossimamente il solito saluto noi che iscritti il solito abbraccio a chi mi vuole bene occhi aperti ragazzoli occhi aperti ciao 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 ciao